L'Art Deco fu uno stile di vita mondano, eclettico e culturale degli anni 20 dello scorso secolo. Dopo le grandi mostre dedicate al Novecento e al Liberty, la dodicesima mostra dei musei San Domenico di Folì tornano sul tema con Art Deco, gli anni ruggenti in Italia. La mostra, che si presenta come un'esplosione di fascino e colori, promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Folì rimarrà allestita ai musei San Domenico di Folì fino al 18 giugno. Qual è la particolarità di questa mostra del San Domenico? La prima particolarità è che questa è la ben dodicesima mostra che si fa qui nel complesso del San Domenico. Io le ho seguite tutte e posso dirlo senza orgoglio che dal 2005, quando si è fatta la mostra su Marco Palmezzano a oggi, qui in Forlini si sono inaugurate 12 grandi mostre, una dopo l'altra, toccando gli argomenti più diversi. sempre mostre di grande originalità scientifica, di grande qualità filologica. E questo deve essere per me, che sono Presidente della Commissione Scientifica, ma per la città di Folì tutta intera, motivo di speciale soddisfazione. Oggi abbiamo il Deco, ma non dimentichiamo mai che questa è la dodicesima mostra che a fine inverno è ormai una tradizione che si ripete da 12 anni, diventato un'occasione civile per la città di Folì. Questa è la dodicesima, quindi questa è la cosa che a me premi di più sottolineare. Qualche pezzo importante che può essere il grande protagonista o l'attrattività di questa mostra? Di pezzi ce ne sono tanti, voglio dire più di 400 pezzi selezionati con grande attenzione dal curatore che è Valerio Ferraioli, quindi per carità è inutile parlare di singoli pezzi, dovessi stare al mio gusto, alla mia sensibilità, quello che mi piace di più è il grande disegnatore, e ceramista Gio Ponti che lavora negli anni 20 e 30 alla Ricciardi Ginori di Firenze, ma non è che uno fra i tanti Cambellotti, Brunelleschi, Portalupi e tanti tanti altri che sono stati selezionati e raccolti qui dentro. Secondo lei con questa mostra ripeteremo il successo che c'è stato durante le altre mostre e soprattutto con la mostra dedicata a Liberty? Ma io direi di sì, che addirittura forse lo supereremo, perché è affascinante entrare in questa mostra e vedere questo meraviglioso splendore di oggetti, di vetri, di smalti, di bronzi, di tessuti, di manufatti di moda, si vede proprio al suo livello apicale più affascinante quello che è stato negli anni fra i 20 e i 30 e che rappresenta il grande artigianato artistico fiorentino, milanese, romano, italiano in generale. Insomma, questa è un'occasione unica quella che presenta Forlì in questo inverno del 2017. Diamo qualche dato su questa mostra che inaugura oggi Art Deco. Art Deco, gli anni ruggenti in Italia, il sottotitolo è naturalmente molto importante perché fissa un perimetro nel quale noi realizziamo questa grande esposizione che conta più di 440 opere dove esiste naturalmente un rispecchiamento fra pittura, scultura, arti decorative in generale ceramica, tessuti, ferri, mobili e quindi tutto ciò che il Deco, che non è propriamente uno stile ma è un gusto, il gusto di un'epoca, gli anni venti, gli anni ruggenti appunto elaborarono con grande creatività, è uno dei momenti di maggiore creatività e di ripresa dopo la grande guerra. La borghesia europea immaginò di poter tornare alla vita e a un sogno di felicità anche la grande guerra aveva in qualche modo nascosto o distrutto. Quelli sono stati anni molto importanti per quanto riguarda l'arte, la letteratura, la creatività in generale non solo in Italia ma anche all'estero, faccio esempio, Parigi, New York, Berlino. Parigi si è rappresentata già prima della guerra e per tutto l'Ottocento come la grande capitale mondiale dell'arte. Parigi immaginò nell'immediato dopoguerra di riprendere questa tradizione e a Parigi nel 1925 con la prima grande esposizione universale delle arti decorative nacque il déco, lì il déco fu codificato in qualche modo, forse fu il momento di maggiore espressione e gli italiani vinsero a Parigi con alcuni grandi artisti, da Gioponti a Portalupi ad altri, vinsero i premi principali su molta parte delle arti decorative. Questa è una mostra che va anche ad affermare l'importanza dell'Italia in quel periodo e quindi non soltanto la Germania o la Francia. È un'Italia che si confronta con la modernità, con il processo di modernizzazione, con l'industrializzazione e gli artisti diventarono decoratori o immaginarono e di fatto portarono elementi di decorazione anche nelle cosiddette arti maggiori, nei quadri, nelle sculture. Molti artisti italiani poi dopo la crisi del 1929, quando l'economia americana riprende, riprende, finirono negli Stati Uniti e furono i grandi decoratori delle nuove gigantesche costruzioni, quello skyline che era presentato dai grattacieli, gli annuzzi, i piccirilli ed altri furono fra i protagonisti di questa grande stagione nuova dove il deco dall'Italia e dall'Europa immigrò in qualche modo oltreoceano. Qualche pezzo che può essere considerato il gioiello di questa mostra? No, sono tanti i gioielli di questa mostra perché non è concepita attorno a un capolavoro, ma è concepita attorno a un racconto, a una narrazione. E quindi noi potremmo citare Lisotta Fraschini di D'Annunzio, potremmo citare Casorati, De Chirico, Gioponti, potremmo citare tantissimi nomi, Tamara dell'Empisca, quindi tantissimi artisti e tantissimi protagonisti di quell'epoca. Il tutto in una grande narrazione che è la narrazione di un sogno, un po' come il sogno di Icaro, solo che separare la bellezza dalla storia, così come per Icaro separare la libertà dalla realtà, portò al naufragio. Un momento importante è la dodicesima mostra di Musei San Domenico, l'Art Deco, gli anni ruggenti in Italia, quindi si spera di replicare anche il successo delle altre mostre. Ma a dire dalle prenotazioni si dovrebbe dire di sì, perché ci sono state 30.000 prenotazioni in due giorni, quindi però bisogna vedere. È una mostra bellissima, io l'ho vista in parte, non tutta in anteprima, proprio stamane. E' un raro concentrato di bellezza, perché magari singoli pezzi, qualche singolo pezzo dell'Art Deco, l'abbiamo visto, ci è capitato nei film, televisioni, nelle riproduzioni, magari in qualche occasione, ma insieme non l'abbiamo mai visti. Qui ci sono più di 400 pezzi, dei quali emerge lo spirito del periodo Deco. E questa è la grande e straordinaria novità, e poi c'è un livello estetico di bellezza incomparabile. Inaugurazione della mostra al San Domenico, una proposta ormai consolidata nel panorama culturale della città di Forlì. Sì, assolutamente, è la dodicesima edizione, un'edizione straordinaria. Devo dire che quest'anno la mostra Art Deco, ho avuto l'opportunità di vederla, è imperdibile, davvero imperdibile. È una grande occasione e permettetemi, l'ho già detto in altre circostanze, è una mostra orgogliosamente per donne. Proprio lo dico con una certa determinazione e felicità, perché credo che l'opportunità di osservare l'evoluzione dell'Art Deco attraverso diverse forme espressive e applicazioni dell'arte. Ci sono ceramiche, ci sono oggetti d'arte, ci sono naturalmente quadri. È un punto di vista sulla corrente, sullo stile Art Deco, che secondo me è molto affine alla sensibilità e alla raffinatezza del gusto femminile. Sindaco, la dodicesima mostra di Musei San Domenico, che spera anche di replicare il successo di quelle precedenti? Parte sotto le migliori aspettative, perché circa già oltre 30.000 prenotazioni in partenza, e quindi un'ottima occasione, momento, davvero di proseguire quel progetto culturale della città che ha investito sulla resinerazione dei contenitori, con la collaborazione con la Fondazione, riesce a realizzare queste mostre esclusive, uniche, che però hanno un filo conduttore importante e si rappresenta anche la storia di un Novecento che viene scandagliato nei suoi aspetti più importanti, quindi non è solo arte, è cultura, è società, è modo di vivere, è ripercorrere le proprie radici in senso critico. Grazie.